Essere attori William Borbitani e Azone, è impossibile parlare con te, tu non credi nei rapporti di fiducia tra gli esseri umani. Io invece credo che tu abbia un serio problema di transfert, come del resto succede con tutti gli analisti freudiani. E tu che chiami per nome, come se fosse la tua migliore amica, Marta, hai finta di essere stabile quanto parcoli come un gomone in piena tempesta. Guarda che io non prendo consigli da una che ingurgita talmente tanto tavolo da vedere plessi solari ovunque. Lindon, signore e signori, l'atterraggio è venuto con successo, il comandante vi augura un buon arrivato a New York. Scusa. Magari ci vediamo. Sì, magari. Tu quando hai il volo di ritorno? Tra la settimana. Io ce l'ho fra sei giorni, però potrei ritardarlo di un giorno. Perché no? Potremmo discutere un po' di teorie di nuovo. Volentieri. Volentieri. Grazie a tutti.